Torniamo a parlare di un argomento del quale, come direbbero i latini, Nunquam Satis, non se ne parla mai abbastanza. In questo momento, mentre sto facendo questo video, tante persone stanno soffrendo, torno a dire, e non mi stancherò di dirlo, perché stiamo dando voce a tanti, a tanti, che non hanno neanche il coraggio di uscire fuori. Tanti che soffrono a causa di una estremizzazione, di un comportamento loro dettato da un'organizzazione che ha tutta la mira di tutelare se stessa a scapio dei sentimenti delle persone. Dico questo senza tema di smentita, denunciatemi pure, ma sto dicendo solamente la pura verità. Tante persone subiscono questo trattamento di isolamento sociale, tanto più rimarcato nel momento in cui i testioni di Geova normalmente costruisce tutta la sua struttura sociale, i suoi riferimenti affettivi e sentimentali, sono all'interno della congregazione. Se la congregazione poi ti sputa fuori, tu sei destinato alla morte interna, una morte interiore che ti logora, e non tutti sono capaci di sopportare questo peso. Questa è una estremizzazione che non è cristiana. Non è cristiana. Ditemi quello che vuoi, ma non è cristiana. Non ci parla dell'amore del padre e del figlio, quel padre che è sempre lì, che è a scutare l'orizzonte. Dice, ma il figlio non ha chiamato il padre, non si sono sentiti mentre, parlando della parabola del figlio del prodigono, non si sono sentiti... Cioè, scusate, devo sentirmi dire anche queste cose. Cosa facevo? I segnali di fumo? Un padre che invece, invece, tutti i giorni scutava l'orizzonte, sperando nell'arrivo del figlio. Io non vedo questo scutare l'orizzonte da parte di certi atteggiamenti veramente cattivi. Perché poi si diventa cattivi nei confronti di una persona con la scusa che sia un provvedimento amorevole. Un cavolo! Non è amorevole niente. Vedete soffrire un tuo congiunto che sai benissimo, che non ha amicizie anche esterne. Come vuoi che si senta quella persona? Può Dio agire in questo modo? Attraverso un ricatto? E siete proprio convinti che sia così? C'è di più, è di peggio. In una delle sue precedenti edizioni, l'attore di guardia, con un po' di rammare, che mi pare, ragionò sull'impossibilità di uccidere, avete proprio ascoltato e letto bene, di uccidere i suoi apostati ai nostri giorni, in assenza delle istruzioni dirette di Dio di fare questo, come era nell'antica Israele, in effetti. Sono quelle pagine impegnative dell'Antico Testamento, riconosco, un po' difficili, no? Ma stiamo parlando di un contesto completamente diverso dal nostro. Completamente. Come possiamo vedere, l'unica ragione per cui i testimoni di Geova non uccidono i loro apostati, oggi, è a causa dei limiti delle leggi delle nazioni terrene e delle leggi di Dio. Ma se a loro, oggi, fosse stato permesso di fare questo, come avveniva in tempi biblici, avrebbero eliminato fisicamente i loro apostati senza scupoli. Dobbiamo deturre così. Sono esagerato? Sarò io esagerato, dite voi. Ma andiamo a vedere. Torre di Guardia, 15 gennaio del 54, pagina 62. Domanda dai lettori. Ma qualora un padre, una madre, un figlio, una figlia fosse disassociato, come dovrebbe essere trattata tale persona dai membri della famiglia, nei loro rapporti familiari? Risposta. Noi, oggi, non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere esterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia, come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione di Israele, nel deserto del Sinai e nella terra di Palestina. Uccidilo senz'altro, la tua mano sia la prima a levarsi su di lui per metterlo a morte. Poi venga la mano di tutto il popolo, lapidalo e muoia, perché ha cercato di spingerti lungo dall'Eterno, dall'Idio tuo. E tutto Israele ludrà e temerà e non commetterà più nel mezzo di te una simile azione malvagia. Deuteronomio 13, 6, 11 si sa che da Deuteronomio al XX secolo è un attimo, no? Essendo circoscritti dalle leggi delle nazioni in cui viviamo e anche dalle leggi di Dio mediante Gesù Cristo possiamo, attenzione, agire contro gli apostati soltanto fino ad un certo punto. Vale a dire conformandoci alle due serie di leggi. E, punto finale, rullino e tamburi, la legge dello Stato e la legge di Dio, cioè mediante Cristo, ci proibiscono di uccidere gli apostoli, mannaccia, miseria, oh ma Cristo si poteva fare pure i fatti suoi, anche se sono membri della nostra stessa famiglia carnale. Lo rileggiamo. La legge dello Stato e la legge di Dio mediante Cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati, anche se sono membri della nostra stessa famiglia carnale. Allora voi direte, beh, ma lo Stefano, dai, o Stefano, per me è uguale. Siamo negli anni 50, al giorno d'oggi non si sognerebbe mai, l'attore di guardia, di usare un linguaggio simile. Ne sei proprio sicuro? In realtà lo fa. Mentre qui, in questo articolo, discute su cosa si debba fare nel caso di una disassociazione di un giovane, ecco che cosa viene a scrivere. e scrivere, cioè non lo scrive direttamente, ma molto furbescamente, a mio avviso, molto furbescamente, vengono citati i versetti. Come trattare le trasgressioni gravi? E guardate, udite, udite, nel momento in cui si decide per la disassociazione, attenzione, eliminando la cattiva influenza del trasgressore, si preserva la purezza morale e spirituale, nonché il buon nome, della congregazione. Cosa viene citato? Deuteronomio. La lapidazione del soggetto in questione. Portare entrambi alla porta di qualicità e lapidarli. Niente di nuovo sotto il sole. Non c'è stato nessun progresso. Per la Torre di Guardia, Primo Testamento e Nuovo Testamento sono assolutamente sullo stesso livello. Alla faccia del sono venuto a perfezionare la legge. Non vi chiamo più servi, ma amici. Alla faccia di tutto questo. Perché? Perché fa cosa così? Perché quel mio marito, quella mia cognata, quel mio fratello, beh, ucciderlo non posso, però come minimo li tolgo la parola da ora fino all'eternità. Grazie dell'ascolto.